Prima. Oh, attenzione. Ma chi è che sei possessato del bancho? Attenzione. E Matteo è andato a cagare. Un cacone. Matteo non può cagare così appena arrivi in hotel, cioè. Eh no? Non è neanche passato dalla porta e è già andato a cagare. Panoramica sulla camera dell'armada al hotel. Allora, Claudio, il corso com'è? Zona riservata a fratelli Mazzetto, sezione flatulenze acute. Claudio, come si chiama l'armada, immagino? Sì. Ma il lavato? Sì. Passato. www.armada.it Il buon Zanardi e il buon Miceli Condividono... E qui si va nel difficile. Qui si va molto nel difficile. Non aprite questa porta perché Matteo Moro sta cagando. Sono il custode. Sono Manolo. Ehi! C'è il FON! Claudio, c'è il FON! C'è il FON! C'è il FON! FON! Ah, il FON! Sei contento? Dov'è? Ma ancora c'è... Claudio e la sua necessità di FON impellente. Ma stai cagato! Ho, ho, ho. Ok. E ora... E ora... E ora...